Ciao ragazzi e ragazze, per celebrare questo anniversario, questo compleanno avrei forse dovuto rendermi più presentabile però poi ho pensato che era giusto così nel mezzo del mio pomeriggio lavorativo celebrare esattamente come è cominciata la mia avventura dei contenuti era il 2 febbraio 2018, io aspettavo un treno e feci il mio primo video proprio così esattamente come lo sto facendo adesso da casa era ieri, era il compleanno ma ho avuto altre cose da condividere volevo solo lasciare un messaggio che è questo il contenuto è forse, il creare contenuto è forse la cosa più bella che mi sia capitata nella vita è forse la mia più grande fortuna e forse la scelta più giusta che ho fatto direi perché? Perché creare contenuto non è solo fare video, non è esprimersi sui social, non è fare personal branding come dicono quelli bravi, ma è lasciare un'eredità, una parte di un'eredità a chi verrà dopo di noi rispetto alle persone che eravamo magari interessa solo ai nostri figli, magari ai nostri nipoti o alle persone che ci hanno attorniato quando eravamo vivi e anche a chi non ci ha mai conosciuto pensate se avessimo avuto dei contenuti dei nostri nonni, dei nostri prozii, dei nostri avi sarebbe stato bellissimo tutto ciò che abbiamo sono delle fotografie, in qualche caso fortunato dei video o delle lettere e tutto ciò è contenuto allo stesso modo non solo quello che si pubblica sui social lo sono i diari, lo sono le foto non teniamo il contenuto dentro di noi facciamolo uscire perché l'unico senso che ha il contenuto è questo è quando si esprime fuori da noi per lasciare un messaggio a chi verrà dopo il contenuto è la nostra eredità stop whining